salve a tutti ragazzi sono cor96 e benvenuti sul mio canale chi mi segue su instagram sa della mia passione per i giochi di ruolo e per il dungeon making che per chi non lo sapesse consiste nella realizzazione di ambientazioni miniature e quant'altro relativo agli rpg da tavolo così un giorno mi sono detto perché non aprire un canale youtube in cui faccio vedere le stesse cose che mostro su instagram ma registrate passo dopo passo magari a qualcuno potrebbe anche interessare perciò eccoci qui dove intenzione di realizzare una serie di guide pratiche per chiunque volesse iniziare ad approcciarsi a questo mondo partendo da zero e soprattutto con un budget minimo quindi buona permanenza non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e di lasciare un mi piace un commento qualora vendesse di farlo noi ci vediamo al prossimo video su instagram mi trovate come cor96 dove pubblico anche disegni brutti e progetti random fateci un salto